Il 4 febbraio 1945, a Yalta, in Crimea, inizia la conferenza voluta durante la seconda guerra mondiale da Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill e Jossi Stalin, rispettivamente capi dei governi degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica. La foto che li ritrae diventerà simbolo di un'epoca. In sette giorni i tre leaders discutono del proseguimento del secondo conflitto mondiale e del futuro assetto dell'Europa. Viene deciso lo smembramento della Germania, divisa in zone di occupazione completamente smilitarizzate. Stalin dà il suo assenso alla convocazione a San Francisco di una conferenza per la Costituzione delle Nazioni Unite. Pochi mesi dopo cadrà la Germania nazista. Secondo alcuni storici, Yalta segna l'inizio della divisione del mondo in blocchi e l'inizio della guerra fredda. Secondo altri, è l'ultimo episodio di collaborazione tra le grandi potenze.